Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda, ogni venerdì alle 18 e 10 e ogni martedì alle 11 e 10. CNA e Associazione Panificatori Cuneesi si uniscono per un progetto dal titolo Non sprecare ma riutilizzare, un progetto di cui ci parla la direttrice di CNA Cuneo, Patrizia Dalmasso, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. CNA Cuneo e Associazione Autonoma Panificatori stanno collaborando insieme su questo progetto dal titolo Non sprecare ma riutilizzare, proprio per far passare alcuni messaggi, soprattutto l'importanza di azioni mirate che possano promuovere pratiche per efficientare l'utilizzo delle risorse e la riduzione delle spreche di energia anche nelle varie produzioni appunto azzerenti la panificazione. Questo è un progetto che vede anche il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, molto importante per noi, proprio per poter promuovere questi eventi, queste situazioni di informazione, per sensibilizzare le persone su questo tema importantissimo in questo momento, un tema anche di economia circolare. Infatti prendiamo anche spunto da un altro progetto che è il progetto della birra briciola, che è una birra proprio creata dagli avanzi del pane, ecco proprio perché come economia circolare ci insegnano tutti a utilizzare al massimo i sottoprodotti per non andare allo spreco. Si faranno anche appunto delle giornate informative presso i maggiori istituti professionali dell'agroalimentare, l'alberghiero di Dronero, l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l'Istituto Professionale per l'Alte Banca di Neive, il MoxFab di Saliviano. E per finire, per coinvolgere anche le istituzioni e tutto il pubblico, lunedì 19 febbraio si terrà appunto un evento pubblico dove si presenterà questo progetto, dove parteciperà anche una dottoressa, una biologa nutrizionista, proprio per approfondire tutte le dinamiche salutistiche dell'uso consapevole di prodotti artigiani dell'arte bianca. E per finire ci sarà appunto una divorzazione di tutte le ricette storiche prodotte e cucinate con il pane. Tutto questo proprio per incentivare il riuso dei sottoprodotti e anche ridurre l'uso di imballaggi non riciclati, l'utilizzo di energie rinnovabili per approvvigionamento energetico e l'ottimizzazione delle rotte di consegna anche per ridurre l'impatto del trasporto. Quindi partendo anche appunto dai ragazzi per arrivare a parlare al pubblico adulto per sensibilizzare al meglio questo argomento importantissimo. E io nel rinnovare l'appuntamento di lunedì 19 febbraio alle ore 18 abbiamo detto presso l'hotel Lovera Palace di Cuneo, saluto Patrizia Dalmasso, direttrice di CNA Cuneo. Grazie per essere stata con noi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.